le cinque cose che mi piacciono di più di questa macchina del Land Rover Discovery una la comodità lo spazio ce n'è tanto vero? tirando avanti tutti quanti i sedili e abbassando gli schienali dallo sportellone alla punta più estrema dell'anteriore qui vicino ai sedili abbiamo quasi due metri per esattezza 1,97 un bel letto comodo la semplicità nell'aggiustare dei problemi meccanici la comodità dei sedili durante un viaggio che puoi affrontare chilometri e chilometri tutti in una volta che sono veramente veramente comodi è un'altra comodità è nell'offro essendo molto molto morbida nell'affrontare dei percorsi sterrati quinto ed ultimo punto è che i pezzi di ricambio si trovano ovunque in tutto il mondo ciao